Lo scarificatore Eurosystems è l'unico sul mercato che utilizza motori ad albero verticale per questo tipo di macchina. La trasmissione a cinghia e brevettata permette di arrivare all'utente finale a prezzi contenuti senza rinunciare ad un robusto telaio in acciaio strutturato in modo da facilitare lo scarico posteriore dell'erba e del feltro del prato che possono essere raccolti in un cesto di 45 litri fornito in opzione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!